giorno dopo, giorno dopo ragazzi di Inter 3-1 Lazio brutta sconfitta, brutta sconfitta però dobbiamo cercare di rialzarci sono ancora comunque arrabbiato, deluso il giorno dopo perché ieri in gran parte la difesa ha fatto una prestazione orribile veramente orripilante, errori da tutte le parti, uno scempio infatti 3 gol regalati l'Inter comunque, ripeto come ho detto nel video di ieri ha strameritato di vincere però continueremo a perdere finché regaliamo i gol e noi pensate che dobbiamo affrontare il Bayern, il Bayern Monaco che ha Gnabry, Sané e Lewandowski questi tre elementi con questa difesa pensate, difesa con la Brodo che fa errori, che regala i gol contro quei tre fenomeni io ho paura mamma mia veramente comunque 3-1 giusto nonostante molti episodi dubbi come il rigore o il fuorigioco di cui andremo a parlare ora brevemente e poi faremo le pagine allora, primo episodio rigore allora, secondo il mio punto di vista ci potrebbe stare ci potrebbe non stare perché dalle prime inquadrature sembrava rigore netto con Huth che prende la palla però vedendo un po' le immagini dopo le inquadrature successive anche durante l'intervallo della partita del primo tempo in effetti Huth con la gamba dietro va a prendere anche un po' Lautaro che poi ovviamente si lascia un po' cadere però comunque la gamba davanti prende la palla insomma, un intervento un po' confuso che ci poteva stare ci potevano stare però l'arbitro ha dato rigore peccato vabbè, fa niente secondo il secondo gol ragazzi sempre di Lukaku all'inizio annullato per fuori gioco ma poi convalidato dall'arbitro dopo che si era consultato con gli assistenti del VAR allora commenti sul secondo gol anche lì all'inizio da una prima inquadratura non sembrava fuori gioco perché c'era la gamba di Patrick dietro dietro Lukaku anche se Lukaku aveva il braccio un po' largo erano proprio vicini però era dietro la gamba di Patrick è solo che il pallone vedendo non era ancora arrivato a Lazzari poi c'è un'altra inquadratura dove praticamente è arrivato a Lazzari se non anche forse un po' più in là e tra il braccio di Lukaku e il piede di Patrick più o meno siamo lì forse un po' più indietro il braccio di Lukaku però comunque siamo lì sono inquadrature comunque diverse non si sa bene quale è giusta poi da lontano non si vede benissimo insomma anche questo un po' dubbio però convalidato il gol e niente poi vabbè arriva il gol di Escalante così un po' fortuito e e poi il terzo gol ragazzi ma dai cioè stavamo attaccando tutti in attacco tutti ripartenza dell'Inter due contro due e chi erano quei due contro due? Lukaku Lautaro contro Parolo e Patrick veramente già fa ridere a dirlo così Lautaro Lukaku contro Parolo e Patrick Lukaku parte Parolo non può fermarlo è lentissimo non ha fisico non può fermarlo Parolo infatti Lukaku se ne va Patrick era in mezzo tra Parolo e Lautaro cosa va? cosa fa? va a seguire Patrick che ormai ha perso Lukaku ma tanto Lukaku già davanti alla palla la serve a Lautaro dall'altra parte da solo davanti alla porta la piazza in rete ma se Patrick avesse seguito Lautaro probabilmente sarebbe arrivato in tempo per spazzare il pallone se ovviamente Lukaku l'avesse dato a Lautaro e non l'avesse tirato però ragazzi cioè sti errori oggi Patrick veramente male male però anche così ci facciamo beccare in contropiede va bene che stiamo perdendo stiamo attaccando però due contro due Patrick Parolo cioè vabbè quindi brutta prestazione difesa da horror che dire cioè vabbè comunque andiamo alle pagelle partiamo con Pepe Reina io do 5 e mezzo a Pepe Reina perché secondo me cioè non ha fatto comunque grandi parate e sul secondo gol poteva fare di più perché il tiro era abbastanza centrale secondo me poteva anche pararlo però niente poi andiamo in difesa Acerbi 6 Acerbi ha fatto delle cose molto buone soprapposizioni cross bypassaggi come fa sempre ha fatto anche qualche errorino in difesa però ragazzi io do 6 perché comunque Acerbi è l'unico bravo in difesa non può reggere da solo la difesa dobbiamo concedergli per forza degli sbagli perché veramente sembra da solo Patrick Hoot un disastro Patrick 4 e mezzo un disastro ha sbagliato di tutto ma infatti me lo immaginavo preferivo Musacchio e Hoot 5 un'altra scivolata all'interno dell'area che provoca il rigore altri errori veramente male male passando al centrocampo ragazzi do a Milinkovic a Lu e Luis Alberto 6 perché si hanno fatto qualcosa di buono però non sono brillati particolarmente diciamo non erano al massimo delle loro potenzialità e niente se loro non sono in forma se non sono brillanti loro che sono un po' la mente diciamo al centrocampo della Lazio è difficile andare a creare buone occasioni da gol e tutto comunque li do 6 poi Lucas Leiva 5 e mezzo che è lì un po' di confusione in mezzo al campo poi aveva Barella che è un gran giocatore però comunque confusione qualche errorino non proprio una gran partita 5 e mezzo per Lucas Leiva andando agli esterni Lazari parecchio sottotono poche corse a cui ormai ci aveva abituato ha fatto veramente poco anche sovrapposizioni tutto giusto una prima che è andata bene poi ha preso Andanovic con i piedi però il resto spento non come le ultime partite 5 e mezzo Marutic secondo me leggermente meglio di là infatti do 6 perché comunque ha provato qualche tiro lì in avanti si è fatto vedere è riuscito a contrastare abbastanza bene Hakimi poi vabbè anche lui qualche errorino comunque 6 passando ai due attaccanti entrambi 5 e mezzo i mobile questa partita non hanno creato tanto anzi hanno creato poco tanti passaggi sbagliati combinazioni noi eravamo abituati a grandi combinazioni passaggi filtranti e tutto invece oggi non si sono visti si è visto il contrario tanti errori non sono brillati poi vabbè Inzaghi li ha tolti pure entrambi al settantesimo per mettere Murici e Kai'Sedo ci si è messo anche Inzaghi infatti Inzaghi do 5 perché è fatto un disastro tattico e poi i cambi non ne azzecca uno di cambi li canna tutti veramente male 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 vabbè speriamo di rifarci nella prossima partita continuiamo a credere nel sogno della Champions però finché continuiamo a regalare i gol io sono convinto che in Champions non ci andiamo comunque io vi saluto buon pomeriggio e sempre Forza Lazio dai ragazzi grazie a tutti